E ci spostiamo a Lecce, all'emporio della solidarietà, questo supermercato a fianco di chi non ha la possibilità di fare la spesa quotidianamente. Allora esiste questo emporio della solidarietà che aiuta le persone in difficoltà a fare la spesa. Però in questo momento storico in cui non è possibile effettuare collette e raccolte alimentari fuori dai centri di grande distribuzione, l'emporio è un po' in difficoltà, forse è un po' troppo in difficoltà, allora ha bisogno del sostegno e dell'aiuto di tutti. Siamo collegati telefonicamente con Salvatore Esposito che è coordinatore dell'emporio della solidarietà a Lecce. Ciao Salvatore, benvenuto. Ciao carissima, buona domenica. Allora, come possiamo aiutare l'emporio della solidarietà a non fermarsi pur, come dire, restando a casa? Sì, è molto semplice. Noi abbiamo avviato due campagne di promozioni sul profilo Facebook, una di raccolta fondi e una di raccolta di generi di prima necessità. Perché dal 7 marzo, ultimo sabato in cui è stato possibile fare la raccolta alimentare, che facciamo da sempre, da dieci anni, insomma, che è un po' il fulcro dell'emporio, attraverso le raccolte alimentari riusciamo a raccogliere e a distribuire circa dieci, undici tonnellate di prodotto ogni mese. Per cui, capisci bene, venendo meno questo importante servizio, è chiaro che l'emporio, fatte salve le scorte di magazzino, che comunque sta continuando a erogare attraverso il servizio online, perché comunque l'emporio non si è fermato. Abbiamo fatto una ultima spesa prima dei decreti, diciamo, restrittivi a tutte le famiglie in carico all'emporio. Fisicamente sono venute, abbiamo anticipato la spesa per un mese, in modo da evitare che tornassero settimanalmente come si faceva di consueto. Poi, dopo di ciò, sono arrivate quelle misure ultime che tutti conosciamo, che impediscono alle famiglie di uscire da casa. E quindi, insomma, abbiamo realizzato un'app che permette online di fare la spesa e stiamo continuando a fare il servizio a domicilio. Lo facciamo su Lecce e lo facciamo anche sui paesi limitrofi, insomma. Per cui, adesso il problema sono le scorte di magazzino che stanno per esaurirsi. Per cui, la domanda, l'appello che facciamo a chi può aiutarci è quello appunto di o donare una piccola offerta in misura di quanto ognuno può attraverso questo profilo Facebook che abbiamo avviato la campagna di raccolta fondi, oppure sempre sullo stesso profilo c'è dei modi semplicissimi, quelli di andare sul sito e di pagare una spesa anticipata di una settimana, di due settimane, in funzione, insomma, di quanto uno può. Oppure donare direttamente delle derrate alimentari. Abbiamo tutti i mezzi e i servizi per venire noi a ritirare la merce. Accogliamo l'appello di Salvatore Sposito, coordinatore dell'Emporio della Solidarietà, che appunto non si ferma, continua ad andare avanti per raccogliere beni di prima necessità per persone che non possono permettersi di fare la spesa. Allora, ricordiamo appunto l'Emporio della Solidarietà di Lecce, lo trovate su internet e sulla pagina Facebook, e lì troverete tutti i modi per sostenerlo. Grazie a Salvatore Sposito per essere stato con noi, un abbraccio a tutti i volontari dell'Emporio della Solidarietà e grazie agli amici di Teleradio Padripio per averci seguito.